Ma guarda, io ho stati problemi ad esempio anche con Zoom, e io a volte quando entro su Zoom e mi fa accedere, ok, quando mi chiede la password io non so quale sia la password di Zoom, o quale sia quella di Skype. Solitamente io ho la stessa password da quando ero piccolo, ma col tempo... Che si moriremo in questo momento, per tutti quanti gli hacker in ascolto. Ah sì, sì, no no, hai evito di dirla. Però ipotizza che la password iniziale fosse, dico una cosa a cavallare, cubo di Ubik. Allora, la mia password da un'epoca era cubo di Ubik, ipotizziamo, non è questa. Poi col tempo mi hanno detto, devi aggiungerci un numero, quindi è diventata cubo di Ubik 100. Però dopo un po' devi aggiungerci delle maiuscole, quindi è diventata C maiuscola cubo di Ubik. Finché adesso io ho otto password, che sono tutte delle tg-evoluzioni della stessa, e quindi io praticamente so che quando mi chiede la password e la prima non è giusta, può iniziare il calvario, il finito, un inferno, un incubo. E' una versione un po' darwiniana di questa evoluzione delle password che prendono quasi vita, no? A un certo punto, dato il cambiamento a cui li sottoponiamo. Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento, nel nostro salotto digitale. Quest'oggi sono davvero molto, molto adorato e felice di avere qui con noi Valerio Londini. Ciao Valerio, come stai? Bene, bene, te come stai? Tutto bene Valerio. Valerio, adesso sei anche in proximità del lancio del tuo nuovo album insieme con la tua band, I Bazzanicchi. Quella cosa si può dire di questa nuova, di questo nuovo approccio alla musica? Ma guarda, io in realtà con I Bazzanicchi ci ne suoniamo dal 2009. Eh sì. Quindi è una roba che per me è la cosa in cui, nonostante io non sia questo fenomeno come musicista, però ho imparato a suonare nel corso degli anni facendo anche delle serate avia, sempre con la band, in cui imparavo mentre facevo esperienza. Forse è una cosa con la quale mi sento, non dico più a mio agio, ma sì, più sereno, perché comunque essendo in una band la cosa che forse mi ha sempre divertito e tranquillizzato era che quando suono con altre cinque persone, qualunque sicuraccia, la dividi con loro e quindi c'è meno il peso addosso della responsabilità. Chiaro che nell'ultimo periodo, quando dopo la tv e tutto quanto, la gente conosce più me che il resto della band, questo lusso del de-responsabilizzarsi se n'è andato un po', quindi però no, no, a differenza delle altre cose che faccio, qui è molto più corale il lavoro perché ci sono anche altre persone e poi anche la nostra esigenza, la mia esigenza comica è minore, nel senso, i concerti sono molto divertenti, si vide pare parecchio, ma bene o male c'è sempre la scusa della musica, quindi stai suonando e in più stai anche raccontando cazzate nelle tue canzoni e quindi ci stanno... Facciamo un po' di un pietro per i nostri lettori. Allora, dobbiamo dire che Valerio Lundino ovviamente è noto ai più per quella che è la sua attività comica televisiva. Già prima di questa attività è una band chiamata I Vazzanicchi, quindi riprendendo il nome della famosa cantante che non so se l'ha presa bene o male poi questa roba, come la... No, ma è scritto in modo diverso, è scritto Vazzanicchi, quindi V-A-Z-Z-A-N-I-K-K-I, in realtà è il plurale... Uè, occhio. Sembra, sembra, però è il plurale di Vazzanicco, è come se fosse una popolazione, tipo I Batussi, I Batussi siete proprio, diciamo, una sorta di collettivo che fa musica in maniera ironica, rifacendosi anche i grandi lì, che penso per esempio a Cogliererate, le vostre tese, gli annacci. Voi lo fate adesso con questo nuovo album che tra l'altro si chiama Innamorati della vita, però ecco, volevo sapere anche qui, è innamorati o innamorati? Com'è questa storia? Innamorati è un esortativo, è un imperativo, quindi è un consiglio. In realtà ci direttiva essere un gruppo che fa canzoni molto facete e quindi con temi abbastanza folli, ci direttiva che invece il titolo dell'album fosse proprio Melenzo è quasi fuori moda nel suo essere proprio retorico, Innamorati della vita. A volte ci diverte fare cose non comiche, ma quasi patetiche nel loro non esserlo, quindi un titolo Melenzo smielato come Innamorati della vita ci divertiva. A proposito di questo, poi oltre a tutto quanto il team, tutto quanto il gruppo, ci sono anche dei featuring importanti, c'è i featuring con Gancori, con Castellitto, con Noemi, e addirittura c'è un cammino di Enrico Mentana. Innanzitutto ti volevo chiedere rispetto a Pianconi, che anche noi abbiamo intervistato qui su Domani Press, insomma ci sembra abbastanza irremovibile, come avete fatto così a riuscire anche a coinvolgerlo nel vostro progetto? Ma guarda, io nel senso tutte le cose che ho fatto in passato anche durante il programma, quando si trattava di coinvolgere persone ospitarie, io si sento sempre un grande imbarazzo, perché mi sembra sempre che stai rompendo le scapole a qualcuno, o comunque lo stai mettendo nella condizione di dirti di sì contro voglia o di no con la paura di sembrare antipario. Quindi per me è sempre difficile chiedere collaborazioni. Con Bill Pony è successo che io lo stimo lui e il resto del suo progetto musicale, dai Baustella, le cose che fa da solista, insomma ho grande stima, mi piace molto quello che fa. C'era questo brato che avevamo scritto, che nasce da un'idea del cantante e della band, siamo due a cantare, Andrea è quello bravo. Andrea ha questa idea di un brato che si chiamava ripunito per parlare di un uomo che avendo salvato il mondo da un asteroide gli viene consentito di poter fare quello che vuole e quindi diventa uno psicopatio che fa di tutto perché sa che non andrà mai in galera. E nel registrare sta canzone ci sembrava che avesse delle stuporità che poteranno in qualche modo riportare qualcosa che lui aveva fatto di alconi. Allora ha detto per sicurezza, prima di evitare che sembra una canzone plagio o omaggio, chiamiamolo, così ci troviamo nel problema. Ma a parte questa cavolata, però è vero, io l'ho chiamato, gli ho detto che avevamo questo pezzo, lui si è dimostrato in realtà disponibilissimo, gentilissimo e anche entusiasta, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Stesso si può dire di Castellitto e di Noemi, che Castellitto l'avevo conosciuto perché ci ho girato il film assieme un paio di anni fa, però un film che io ho fatto era con lui. e Noemi anche l'avevo conosciuto la sera perché venne ostile nel programma, perché in qualche modo insomma poi l'ho continuato a vedere a caso, cioè sempre, non siamo amici, però ci siamo simpatici e anche lei insomma è stata super disponibile. Ti dirò di più, c'è anche un cameo di Levante, la cantante, però sta in una canzone in cui si sente, lei dice solo due sillappe, prima poi le due sillappe le potremmo dire o uno di noi della band o farle fare, anche lì a una guest abbiamo preferito, mettiamo... Quale titolo? Perché io non ho... Come se si chiama Edoardo Bannato, c'è una voce femminile che si chiama porco e quella voce è Lirante. Ok. E a proposito di questo, dall'altro ci sono nell'album che è veramente molto esinerante e piacevole da ascoltare, ci sono tanti riferimenti a quelli che sono i piccoli problemi della vita quotidiana, anche in qualche modo è anche giusto prendere un po' poco sul serio. Tra questi c'è uno che è Requiem for a PIN che mi... come dire... mi tocca molto per la causa, purtroppo. Ecco, ma quali sono poi alla fine i tuoi metodi per poter ricordare questi benedetti PIN? Sì, è questo... il brano di cui parlo è quello in cui c'è Noemi che fa il diretto con noi, cioè, si è un brano che parla dello struggle, del non trovare più la password, del non la dimenticare, del doverne generare una nuova perché quella... come perché quella mente è scaduta? Ma guarda, io ho dei problemi ad esempio anche con Zoom e io a volte quando entro su Zoom e mi fa accedere, ok, quando mi chiede la password io non so quale sia la password di Zoom o quale sia quella di Skype. Solitamente io ho la stessa password da quando ero piccolo, ma col... Che si moriremo in questo momento per tutti quanti gli hacker in ascolto. Ah, sì, sì, no, è rinito di dirla. però ipotizza che la password iniziale fosse, dico una cosa cavale, cubo di Ubic. Allora, la mia password in epoca era cubo di Ubic, ipotizziamo, non è questa. Poi col tempo me ne ho detto devi aggiungerci un numero e quindi è diventata cubo di Ubic 100, poi dopo un po' devi aggiungerci delle maiuscole e quindi è diventata C maiuscola cubo di Ubic finché adesso io ho otto password che sono tutte delle tg evoluzioni della stessa e quindi io praticamente so che quando mi chiede la password della prima non è giusta può iniziare il calvario in zinito, un inferno, un incubo. E quella è una una versione un po' darwiniana di questa, di questa evoluzione delle password che prendono quasi vita, no? a un certo punto dato il cambiamento a cui li sottoponiamo. Ma Valerio tu ovviamente la televisione ti ha dato una grande spinta a livello mediatico e di riconoscimento anche per il pubblico poi hai fatto anche teatro recentemente. Tutti chiedono e questa domanda te la devo fare una nuova versione una nuova edizione di una pezza e questa versione però non arriva e pare non esserci nemmeno all'orizzonte. Cosa ci puoi dire? Ma guarda, mi dispiace che scriverei questa cosa della cosa che non arriverà mai. Cioè nel senso di realtà la volontà di farla ci sarebbe anche è che io e Emanuele D'Afanelli non che Giovanni Bricasa per cui abbiamo fatto il programma pensavamo che se l'avessimo continuata diventava una cosa di cui non fregava niente a nessuno. Quindi ci piaceva l'idea di fermarci a un certo punto quando pensavamo di aver fatto le cose più divertenti e o fermarsi in attesa di nuove idee in realtà le nuove idee si stavano anche però la paura era che poi diventassero simili a cose già fatte in realtà il programma per D'Afanelli era almeno secondo me ma anche secondo quello che è piaciuto basato sul fatto che non c'erano contate uguali tra loro non è che c'erano delle griche che noi ogni settimana ogni giorno rifacevamo identiche tipo la grica sulla qualità non si basava sulla qualità quindi comunque non potevamo appellarci a cosa succedeva fuori dallo studio per inventare delle gag noi non si basava su dei tormentoni non si basava su delle cose che ritornavano qua tranne alcune piccole ragazzatelle quindi è un programma che ogni puntata andava riscritta interamente da capo ogni ospite andava trattato in modo diretto da come aveva trattato l'ospite prima e quindi c'era il rischio che poi diventaste o un programma normale quindi di simpatico intrattenimento oppure un programma che cercasse di mettercela tutta per sorprendere ogni volta a volte anche senza il bisogno e quindi ho detto ma perché fare una quarta stagione brutta è meglio uscire da eroi meglio far sì che la gente dica fate tornare la pezza di un dito poi non escludere un giorno magari con Emanuela faremo delle cose insieme ma sicuramente noi ci viviamo spessissimo siamo amici quindi un sacco di volte c'è tra tutte le pilote che ci sono che comunque sono anche spesso anche ricondivise sono anche presenti ancora su replay quindi è possibile guardarle qual è quella che secondo te è la più riuscita quella che oppure quella che quando la guardi ti scappa ancora una risata nonostante l'hai vista più volte insomma ma ce ne stanno tantissime ce n'è una in cui io Emanuela l'entichiamo ferocemente e quella molta gente pensa ancora che si arriva litigata Emanuela mi viene da ridere ma credo che nella stessa scena ci sia dei momenti in cui Emanuela le viene da ridere ma finge di piangere quindi con questa scamotaggine che quando mi piace quella mi diverte tantissimo poi ce n'è un'altra invece che siamo io e Greg di che si chiama scena di lavoro pranzo di lavoro una cosa del genere quella spiegarla è veramente impossibile però è un'idea folle mi è piaciuto come è venuta e poi ci sono tante interviste tipo quella Staviano quella Imaneskin che la trovi più la trovi su replay e non tanto su youtube perché era il periodo in cui non si poteva mettere su youtube la roba no ma ci stanno tante cose l'intervista Nessandro Borghi ci stanno tante cose che io poi in realtà evito di vederle a volte non rivedo le mie cose perché mi sto mi sto antipatico non mi piace ma non è il caso di una pezza di tutti io quelle le rivedo volentieri ma non le rivedo perché aspetto che passi tanto terco così le dimentico e quando le vedo vedo se mi fanno ridere o meno però ogni tanto l'ho fatto l'esperimento è una delle cose che mi diverte vedere come se fossero fatte da qualcuno in una tua dichiarazione ho letto suonavo il piano ai matrimoni e poi ho cercato ho provato a diventare bello oggi ti senti bello? non l'ho mai detta questa frase mi sembra che non te ne godero questo ti aveva testato la giornalistica quindi quando c'è scritto Mario Rossi due punti aperte le virgolette frase quella frase Mario Rossi non l'ha mai detta io non l'ho mai detto ho cercato di diventare bello e suonavo il piano forte ai matrimoni cioè si suonavamo poi i razzanichi ai matrimoni e era divertente perché noi venivamo pagati tra i 50 e i 70 euro a testa quando suonavamo nei locali e ai matrimoni si superavano le 300 euro a testa quindi per me suonare a un matrimonio significava settimana se non mese svoltato e quindi si per noi quando prendevamo un matrimonio era sempre ottimo da un punto di vista economico la cosa del diventare bello è che noi siamo ritrimiti al programma faccende complicate dove io nella seconda puntata faccio un esperimento per diventare più bello e quindi siccome avevo sentito un'intervista di Sharon Stone che diceva che il trucco per diventare belli è avere genitori belli io in quella puntata che si può se volete ritrovare su Rayleigh mi metto una settimana a vivere con due nuovi editori selezionati per motivi estetici quindi dopo una settimana vedo cosa succede su di me però ovviamente il titolo è io che cerco di diventare bello è il classico titolo che ti acchiappa il commento di uno che fa fai schifo che cacchio dici quindi ma in tutta la produzione quanto c'è poi alla fine di happening quanto c'è di script cioè nel senso le idee nascono le pensi direttamente sulla scena c'è un lavoro iniziale come com'è guarda io una pezza dell'uniniera molto scritto scrivevo tutte le cose che volevo che succedessero e poi ovviamente c'era sempre un elemento di di come si dice di improvvisazione le faccende complicate invece io volevo fare un lavoro piccolo cioè volevo che seguendomi con delle telecamere in delle missioni vedevamo cosa succedeva e vedevamo come le facevo diventare però anche lì c'è un canovaccio da seguire e poi per quanto riguarda il teatro quello è molto scritto per quanto riguarda invece i razzonichi è scritto tutto ciò che concerne la musica e poi quello che avviene da una canzone all'altra nel progetto musicale spesso lo improvvisiamo infatti da un punto di vista creativo vazzalichi è più è più facile perché comunque noi in base alla serata ci investiamo le cose il teatro invece quello spettacolo lì è scritto anche in maniera molto ortodossa vi faccio una per ultima domanda prima di quella nostra di rito che facciamo poi tutti quanti i nostri oscrai la televisione ti ha dato una notorietà importante volevo sapere un po' qual è il tuo rapporto anche con questo tuo questo modo di vivere adesso il tuo mestiere che poi interferisce giocoforza con la vita voglio dire penso che adesso ti fermino per stare per degli autografi o altro come questo ti pesa ti fa piacere allora scusa mi sono per prendere dei frazzoletti evidentemente perché ti ho commosso con questa domanda ho scritto toscana allora scusa mi sono sbagliato con l'allergia ecco questo è un momento poco televisivo però è un momento questo è vero reality credo questo è un momento verità è anche un po' ti rude il dolore da fare l'allergia che non fa mai male esatto no e dicevi come ha cambiato cosa come l'autorietà ha cambiato la tua vita se l'ha cambiata ovviamente vabbè sì sicuramente l'ha cambiata io diciamo che la notorietà è arrivata piano piano prima perché facevo delle piccole cose in tv poi se a teatro poi se non appende eccetera ma non era mai diventata una notorietà vera cioè era più che qualcuno sapeva chi ero poi è successo con il programma sicuramente con una pezza di lundini c'è stato un po' l'aumento esponenziale anche di botto nonché ha corrisposto anche con il covid quindi c'è stato un momento in cui mi sono chiuso a casa è successo il covid è finito e poi dopo il covid io sono direttato noto in giro quindi sì è stato strano perché non è tanto uscire di casa e la gente gli chiede la foto ma era in generale uscire di casa quando uscirono di casa tutti quelli che dopo tanto tempo non uscivano quindi è stato proprio il mondo era cambiato a me io penso non me l'abbia cambiata da un punto di vista umano cioè sono rimasto la stessa persona cerco e faccio le stesse cose fuori dal lavoro quindi frequento le stesse persone vado in gli stessi posti eccetera è chiaro che cambia quando vai in contesti tipo concerti di qualcuno se io vado al concerto di qualche cantante di adesso e ci sta il pubblico più vasto possibile io lì ovviamente vivo un po' l'imbarazzo del fatto che mi riconosco le persone e quindi magari sto anche un po' non dico in difficoltà però dopo faccio paura che non non mi godo il concerto perché se no devo devo stare appresso a chi a chi mi dice ah tu sei Valerio Londini però non mi succede sempre mi succede solo in alcuni contesti fiere dei fumetti principalmente lì lì sono come troppo io alcuni concerti ma per esempio se vado cioè in giro per Roma a parte alcuni quartieri alcuni orari ma è tutto ok non c'ho 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 una popolarità comoda che comunque mi riconoscono ma non è nemmeno un proletto dei matti e per dei fumetti c'è sempre la carta del cosplayer se nel caso una volta a Luca Comics ho provato a mettermi una maschera però poi sembravo più umidomane che altro perché quando poi ero io con la maschera la gente pensava guarda questo credi addirittura che se non fosse mascherato gli staremmo addosso no va bene fortunatamente non ho un pubblico di tassi ma di persone molto educate quindi credo che il problema vero della notorietà è quando tu arrivi a un pubblico che non è quello che ti apprezza o che ti riconosce ma è quello che sta che esisti a prescindere quindi se tu cioè se io fossi Amadeus sarebbe un problema perché se sei Amadeus se sei Fiorello ti ferma sia il tuo fan ma anche quello a cui non gliene frega niente sia quello a cui vuole semplicemente far vedere agli amici guarda ho incontrato Amadeus io fortunatamente non sono così popolare sono un po' un po' a metà perfetto io ringrazio davvero tanto Valerio Lundini per essere stato qui con noi come ultima domanda Valerio noi parafrasiamo sempre il titolo del nostro magazine ci chiamiamo Domani Press e chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti come vede il domani Valerio Lundini quali sono le tue speranze le tue paure così una frase una suggestione della storia sul nostro mule virtuale per tenerti con noi sempre il domani guarda sarebbe bello vivere sempre nell'attesa di un domani immediato stimolante non tanto migliore quindi è bello andare a dormire sapendo che il giorno dopo devi fare qualcosa che ti piace tutto qui ok io ringrazio davvero tanto Valerio Lundini ricordiamo ancora una volta innamorati della vita o innamorati della vita di Iva li trovate in tour veramente passate una serata di quelle proprio divertentissime e li potete ovviamente ascoltare su tutte quante le piattaforme online ricordo a tutti quanti i lettori di inserire anche il mi piace sulla campanella in basso per essere sempre aggiornati su tutte quante le attività del salotto di domani press trovate anche in descrizione la nostra sigla che è solo goodbanks ascoltatela e noi ci vediamo al prossimo appuntamento ciao Valerio ciao a tutti ciao ciao grazie mille presto ehi tu dimmi come stai nel caso non hai 4G wifi sta iniziando una puntata e tu lo sai domani press dimmi che ci stai ehi tu dimmi come stai nel caso non hai 4G wifi l'indirizzo lo conosci puoi cliccarlo dai domani press dimmi se ci stai guardiamo al futuro ma è sicuro parliamo come ti dire giuro guardiamo lontano domani press come video domani ti prego parliamo né senza stress andiamo avanti seguiamo i piani ho lì solo le tue speranze per il futuro spero che ce ne sia uno domani press è il mio canale per ascoltare tu iscriviti lo teni pentilato e lo assicuro domani press domani press domani press domani press